La proposta del Presidente è stata approvata dalla Duma di Stato, Camera Bassa del Parlamento. Negli ultimi due anni Mishustin ha gestito con successo l'economia della Federazione Russa malgrado le sanzioni occidentali e ha dedicato una particolare attenzione al settore agricolo. Il risultato è che la produzione agricola della Russia in questo momento non solo è sufficiente per nutrire il Paese, ma anche fa incassare alla Russia un guadagno superiore a quello ottenuto dalle vendite di armi, che non sono certamente diminuite. Budapest è diventata l'ultima tappa del tour europeo del Presidente cinese Xi Jinping. Le delegazioni della Cina e l'Ungheria hanno siglato importanti accordi di cooperazione e il Presidente Xi ha sottolineato che Pechino sosterrà l'Ungheria affinché svolga un ruolo ancora più importante nell'Unione Europea. A sua volta il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che il mondo è ormai multipolare e che uno dei suoi pilastri è la Cina. La Germania acquisterà con soldi dei contribuenti tedeschi sistemi misilistici HIMARS dagli Stati Uniti per poi trasferirli a Kiev, lo ha annunciato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Durante la notte scorsa le truppe russe hanno iniziato un'offensiva sulla regione ucraina di Kharkov, al confine con la regione russa di Belgorod. L'obiettivo immediato è quello di creare una zona di protezione che impedisca al regime di Kiev di continuare gli attacchi terroristici sulla popolazione civile di Belgorod. La polizia della Lettonia ha arrestato sei persone che festeggiavano il giorno della vittoria sul nazismo. Anche in Germania, a Berlino, altre dieci persone sono state arrestate per aver esibito simboli associati al giorno della vittoria, vietati dalle autorità tedesche. Invece in altri luoghi, come per esempio Limassol a Cipro o Montreal in Canada, si sono svolte marce in memoria dei caduti nella Grande Guerra Patriotica. L'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzny, è stato nominato ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito. Zaluzny era stato licenziato per motivi di salute e sostituito lo scorso 8 febbraio da Alessandr Sirsky al comando dell'esercito ucraino. Ieri si è celebrato l'ottantesimo anniversario della liberazione di Sebastopoli. Ottanta anni fa, un anno prima della Grande Vittoria, l'Armata Rossa sconfisse l'esercito tedesco. Alla flotta del Mar Nero fu restituita la sua base navale principale e i nazisti furono privati della loro ultima testa di ponte in Crimea.